Benvenuti a Reality Italiano. La passione, l'amore, e l'inebriante trionfo del cuore. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sono al centro di un vortice mediatico dopo il loro riavvicinamento. La verità è che molti li hanno accusati di essere insieme solo per tornaconto economico, ma oggi, sulla scena del nostro palcoscenico, si erge Oriana Marzoli stessa per smentire tutte le malelingue. Ebbene sì, cari amanti del gossip, questa è la storia della sua vita, la sua risposta, la sua verità. Il sussurro delle polemiche ha stretto il cuore di Oriana Marzoli. E oggi è il giorno in cui prende coraggio e si confronta con la tempesta delle accuse. In un'intervista rilasciata al suo canale spagnolo MTMA, la finalista del Grande Fratello Vip ha affrontato con ardore tutte le voci che la vedevano coinvolta in una relazione di convenienza con Daniele Dal Moro. Prima di andare avanti metti un like e iscriviti al canale, attiva anche la campanella per ricevere le ultime novità. Grazie. La gente dice che sono tornata con lui solo perché avevo una pubblicità di Carpisa, con fida Oriana, sguardo ardente e cuore in subbuglio. Ma io non decido quando fare una pubblicità, questa è una scelta dell'azienda. È stato solo un caso che coincideva con il giorno in cui siamo tornati insieme. La passione nella sua voce è palpabile, mentre combatte contro le ingiustizie a cui è stata sottoposta. Io non sono una persona che sta con un'altra per interesse economico. Non lo sono mai stata, dichiara con fermezza. Sono una scema impulsiva, ammetto, ma le mie decisioni sentimentali sono solo mie. Nessuno può impormi cosa fare. L'amore, però, brucia come una fiamma viva nel cuore di Oriana. Chi mi conosce sa qual è la verità. La verità è che sono innamorata di questo ragazzo, confessa con un sorriso tenero. Siamo una coppia fuori dalla casa del grande fratello Vip, litighiamo, è vero, ma ci amiamo e speriamo di crescere insieme. La determinazione nei suoi occhi brilla come una stella in un cielo notturno, mentre affronta le sfide della loro relazione con la testardaggine di chissà cosa vuole. Entrambi abbiamo un carattere forte, dobbiamo migliorare alcune cose. Ma siamo consapevoli dell'amore che ognuno di noi prova per l'altro, prosegue Oriana con passione. Crediamo che con il tempo possiamo crescere e migliorare insieme. Ma cosa riserverà il futuro per questa coppia tormentata dal destino?